L'area di rigore può arrivare in zona tira, c'è L'Arclassi, poi trova la strada costruita, scarica su Motta, che va subito al cross, falli mezzo, grande acrobazia di Pepe, calcio di rigore, fallo su Pepe, calcio di rigore. Sardo su Pepe. Però è la moneta Andreoli, infatti sì. Forse per il protesto. Eh sì. La rincorsa di Del Piero, il destro a Rete, Del Piero, la Juve in vantaggio. Del Piero che con questo gol segna la Rete numero 284 per la maglia della Juve. E' il record assoluto per un giocatore con la maglia di un'unica squadra, Totti, e a 260, scavalcato Meazza. Aquilani, accelera Aquilani, zona tiro, allo sinistro, c'è una direzione per la che si penna, Sorrentino, in calcio d'angolo, e non era facile. Aquilani. Cerca Krasic. Subito attacca lo spazio Motta, bella palla di Krasic, grande movimento di Motta, in area di rigore, il cross, Aquilani! Grande azione della Juve, il piatto di Aquilani con la palla che si penna e va alta sopra la traversa. Rigoni, trova un bombarco per Costant, lo attacca Pepe, resiste Costant, resiste anche ad Aquilani, poi grande apertura. C'è Jokic, c'è a sinistra, si accentra con il destro, il tiro! Forse la toccata Buffon. Attenzione a Del Piero che può impostare, accelera Del Piero, quasi in zanotiro, palla dentro, le pallone per è Matri! Rete! Matri! Il raddoppio della Juve! Matri segna il suo gollo numero 19 in campionato, 11 col Cagliari, 8 con la Juve, 19 gol in 36 partite, sono tanti. Porta palla Aquilani, nessuno ha contrastato, può arrivare quasi in zanotiro, Aquilani, poi palla dentro, grosso, grosso, il tiro a Rete! Attenzione, fuori gioco! Rivediamo Aquilani, si, bravo Nicoletti anche in questo caso. Calcio di punizione affidato a Bogliasino, la sinistra dell'uruguayano, palo in mezzo, la deviazione, il volo, palo, portavoto, attenzione, Rigoni in rete! Accorciato il Chievo, dovrebbe essere stato proprio Rigoni a toccare per ultimo. Andiamo un po', arrivano in due, vediamo di chi è l'ultimo tocco, ha avuto la sensazione di Rigoni, però vediamo, arrivano quasi contestualmente... Forse Uribe con l'interno piede. Contropiede del Chievo, avanza Rigoni, accelera Rigoni, palla dentro, attenzione, Pellissier, il tiro, palo ancora, portavota, Sard, il tiro a Rete! Il pari del Chievo, incredibile! Incredibile, incredibile! Pallone per Jokic, attenzione che c'è un barco enorme in avanti, il tiro e la palla che termina fuori. Parte del Piero, primo palo, pallone prolungato, palo! E' ridibile! Poi, Gerson Fernandez, non è finita, Motta, insiste la Juve, grosso il streaming su Fernandez, ancora grosso, l'apertura era diretta a Pepe, il rilancio di Rigoni, attenzione alla contropiede del Chievo, con Buffon che addirittura va a chiudere su Pellissier, lo punta, lo punta, Pellissier, la porta vuota, Pellissier, Uribe, Uribe, il sinistro, se lo divora, se lo divora! Abbiamo visto due azioni, Maurizio, incredibili, il palo di Chiellini e questa di Uribe! Matri, c'è Calguizzo, pallone in campo, insiste Matri, può andare al cross, svetta Andreoli, arriva Aquilani, al volo! La palla a carezzo, il palo va sul fondo! Per parte del Piero, è scattato Pepe che è adesso però in fuorigioco, c'è Matri a destra, servito Matri, può entrare in area di rigore, il lacrosse, secondo palo, Tony, palo ancora! Ancora palo!